L'Atalanta per la salvezza, il Sassuolo per l'onore. Amici di sportivi della Serie A team, un saluto da Daniel Rizzo e benvenuti al Comunale di Bergamo, teatro di Atalanta-Sassuolo. Match valido per la trentesima giornata di Serie A. Conta solo vincere, non è ancora l'ultima spiaggia, ma l'Atalanta che ospita il Sassuolo al Comunale deve reagire. Giocatore eletto, anzi, Sassuolo riesce comunque a riportarsi in avanti, si smarca molto bene a destra Piazzola, vuole floccare il pallone al centro. La gente va per vedere il gol. Pirardi dalla distanza, Sportiello ci mette Guantoni, è decollato il mezzo di Bergamo. Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo da Enrico Vendi. L'Atalanta ospita il Torino nella ventinovesima giornata di Serie A team. E il Catturi, che anticipa Sento Masiello, se ne va il Catturi, in mezzo c'è Guagliarella, va il Catturi. E il Catturi col destro, si allunga e tocca il pallone in calcio d'angolo. Sottibilità numerica, al limite c'è anche il Catturi. Vediamo da chi va il pallone, su Amauri che si coordina, parte il tiro, la rispinta di Sportiello, poi allontana Masiello. Sbilanciatissimo, tiene palla il Torino ai 30-35 metri, avanza il Catturi, costringia questa parata e presa a terra Sportiello.